Buonasera a tutti amici telespettatori di Canale 3 Toscana e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Studio Robur. L'anteprima, mancano due giorni alla partita fra Siena-Lucchese, un derby toscano se vogliamo, anche se non è fra i più sentiti magari, però è comunque una partita difficile che il Siena deve assolutamente vincere anche per consolidare una situazione tutto sommato positiva, tutto sommato giusta anche se vogliamo perché il Siena ha investito tanto e merita la posizione in cui è ora e forse anche di più e come oggi a parlarne come sempre Luciano Sardone. Ciao Pietro, buonasera a tutti. Allora Luciano, siamo arrivati da una vittoria contro l'Olbia importantissima anche quella, che partita ti aspetti, quali sono le tue impressioni durante questa settimana, quali sono state? Allora la partita è molto importante come sempre e mi aspetto una riprova, nel senso che la prima di Maddaloni è stata in trasferta contro il Gubbio, poi abbiamo avuto due partite casalinghe un po' controverse perché la prima contro il Modena, l'altra contro l'Olbia e tutte e due tra luce ed ombre, mentre paradossalmente forse quella più convincente è stata la gara in trasferta a Gubbio. La prima contro il Gubbio. La prima, che comunque non era un campo facile perché il Gubbio squadra è imbattuta con numeri pressoché simili a quelli della Robur. Quindi nuovamente ci troviamo in un campo in trasferta con una squadra che poi vedremo nello specifico essere quasi in linea se vuoi con i risultati che ha ottenuto il Siena, con modalità differenti e quindi mi aspetto un Siena formato trasferta con l'atteggiamento di Gubbio. Se così fosse, visto che bene o male è passato quasi un mese, con qualche progresso perché questa è una squadra che deve progredire gioco forza e quindi in quest'ottica credo che il Siena andrà per vincere la gara ma anche per fornire una prestazione di progresso, di progresso sul piano del gioco, di coesione tra i reparti, di progresso da un punto di vista di portare un calcio più convincente perché come detto le due ultime prestazioni casalinghe sono coincise con luce e ombre e quindi probabilmente quello che ci deve far sorridere di più allo stato attuale è comunque il fatto che questa squadra riesca a muovere la classifica. Però tutto sommato pur vedendo dei cambiamenti strutturali sul gioco non abbiamo proprio visto il là, al cento per cento, non è che ci siamo poi dimostrati di essere ancora una squadra che fornisce un calcio spettacolare, però diciamo che siamo sulla buona strada per trovare una quadratura, questo sì. Certo, questo è importantissimo. Maddaloni sta lavorando molto sul gioco, lo ha detto più volte, non vuole vedere lanci, vuole completamente eliminare i lanci che vedevamo fare con Gilardino, però io credo che debba lavorare anche dal punto di vista mentale perché una squadra che va in vantaggio contro l'Olbia 2-0 e poi si fa rimontare di due gol, poi sono riusciti comunque a rimetterla in piedi, insomma lì c'è stato quei 10-15 minuti in cui Ziena aveva completamente staccato la testa. Pensi che Maddaloni dovrà lavorare principalmente sotto questo aspetto? Sì, sulla testa sempre e comunque, però per esempio nello specifico ho visto che parlavi di Olbia, io non lo so, ho visto che il primo gol l'abbiamo beccato su una palla inattiva, su uno schema molto simile a quello che era stato provato nel primo tempo proprio dall'Olbia e aveva creato un'occasione calciando sul primo palo e lì ci hanno fatto gol, quindi non lo so, magari lì c'è stata più una distrazione, oppure bravi loro a creare questa palla inattiva sul primo palo. Sul secondo gol probabilmente più che un fatto mentale lo imputerei a ancora quelle distanze tra le parti che non sono amalgamate fino in fondo. Per chi ci ha seguito sin dalle prime trasmissioni, io ho sempre detto nella nostra esperienza di quelli che vedono le partite che la differenza fra le categorie maggiori e la Serie C sta nell'intensità, che significa dal primo all'ultimo minuto correre, stare coesi fra i reparti e non avere distrazioni. A livello di Serie C l'intensità non può esserci per 90 minuti e in questo caso, vedi questo break del figlio di Chierico che palla al piede, dà una palla dentro e probabilmente il nostro portiere Lani forse con una frazione di secondo esce intempestivamente. Quindi sono quelle situazioni che si possono verificare nell'ambito di 90 minuti quando la squadra non può essere intensa 90 minuti. Ma siccome Maddaloni vuole proporre un calcio evoluto, se noi riuscissimo in futuro a proporre questi concetti più minuti possibile, sono sicuro che questa squadra sarà ancora più all'altezza della situazione. Quindi più che un fatto mentale io ritengo che sia un fatto da male. Poi sicuramente la componente testa esiste e esisterà sempre nel calcio, quindi basta vedere anche la nazionale ad alti livelli, quindi voglio dire che quello è senz'altro un fattore. Sicuramente, poi tra l'altro hai citato la nazionale, il Siena e la nazionale hanno lo stesso problema in questo momento, ovvero la prima punta. Allora, la prima punta potrebbe essere un problema per il calcio moderno, visto che comunque sia in tutte le categorie, anche addirittura in quelle direttantissiche, cioè le prime punte sono un po' rincarate, ci sono dei ruoli che vengono un po' meno. Di fatto il Siena la prima punta ce l'ha, in questo momento sarebbe Carlson e qui torno a Gubbio, perché a Gubbio Carlson è stato schierato, titolare, ed ha creato una logica di squadra, perché andava a occupare uno spazio che era funzionale agli inserimenti delle mezze ali, alle due punte esterne, giocando con un 4-3-3. Quindi direi che probabilmente Gubbio, la squadra a me è parsa più convincente perché partiva da un presupposto che era quello di una punta di peso che comunque in un organico ci deve sempre essere. Poi, quando rientrerà Paloschi avremo un'altra prima punta con altre caratteristiche, però il Siena due punte ce l'ha di ruolo. Quello è vero, servono i gol, caratteristiche anche con storia differente direi. Sotto questo punto di vista non ci sono assolutamente dubbi. Storia, esperienze, tutto un insieme di fattori. Vedo che ti sta piacendo molto Maddaloni però. Secondo me Maddaloni è un allenatore che conosce il calcio e in quest'ottica avendo avuto esperienze di calcio a grandi livelli, perché comunque allenare in Cina, la nazionale e anche squadre che poi sono andate a fare la Coppa intercontinentale, misurarsi contro realtà tecniche di alto livello, sicuramente l'ha messo nella condizione di poter essere un buon allenatore in Serie C. Se la Serie C è un laboratorio per tanti giocatori, perché non deve esserlo per gli allenatori? Certo. Quindi io penso che Maddaloni ha il vantaggio di avere l'esperienza di un allenatore che gestisce un gruppo, ma con la conoscenza. Cioè è differente da un Gilardino ad esempio che da un passato ai grandi calciatori si deve formare come allenatore attraverso delle esperienze, che sono legittime perché per esempio anche Michele Mignani probabilmente ha avuto a Siena da fare delle esperienze, anzi senza probabilmente, e con le esperienze che ha maturato ad esempio nella piazza di Siena e le conoscenze con lo step di Modena a Bari potrà far bene. Sicuramente. E sta facendo bene. E sta facendo bene. Maddaloni è uno che porta direttamente delle conoscenze e questa è un po' un'anomalia, però è anche un qualcosa, devo ribadirlo, molto moderno nel calcio perché comunque sia, ad esempio noi abbiamo affrontato l'Olbia che è allenata da Max Canzi che è stato il secondo vice allenatore di Beretta ad altissimi livelli e andava in Serie C, se è presa una squadra ma è l'Olbia la fa giocare tranquillamente. Quindi voglio dire, domenica abbiamo visto due vice allenatori che si sono sfidati in Serie C, il vice di Lippi e il vice di Beretta e ha vinto il vice di Lippi. Quindi niente di strano. No, assolutamente, è una cosa nel calcio frequentissima e la classifica sta dando ragione comunque alle scelte della società, anche se non è cambiata tantissimo. Però c'è stato una sorta di accorcio in classifica, infatti vediamola un attimo, la leggiamo. Abbiamo la Reggiana prima a 32 punti, poi il Modena secondo a 30 punti che ha rimontato tantissimo, ha recuperato veramente tanto, 6 partite consecutive. Cesena a 29, Siena a 23, Virtus Sentella a 22, altra grande rimonta, poi il Pescara a 21, Ancona Matelica a 21, Gubbio e Molesi a 19, Vispesaro a 18, poi spostandoci sulla fascia destra della classifica che abbiamo La Lucchese a 18 punti, Pontedera a 18, Olbia a 16, Montevarchi a 16, Carrarese a 16, Teramo e Fermana a 15, Pistoiese a 13, Grosseto a 10, Viterbese a 7, che ancora la sua unica vittoria è stata quella contro il Siena. Noi abbiamo messo sotto in classifica due neoretrocesse, se mi passi il termine, Interle e Pescara e siamo assolutamente secondo me in linea con i valori che abbiamo visto fino ad oggi. Ora abbiamo da attestare il Cesena che secondo me è una squadra molto forte, sia come organico ma anche come concetti perché l'allenatore sta facendo veramente un buon lavoro Viali e di fatto noi abbiamo perso con le prime due in classifica. L'unica sconfitta non in linea è quella con la Viterbese che purtroppo la vediamo desolatamente ultima in classifica. Levata la sconfitta alla Viterbese, io non voglio dire contro Reggiana e Modena ci sta, però con il Modena secondo me è una partita che magari rigiocandola magari qualcuno non sarà d'accordo, però con un po' di fortuna la potevamo anche pareggiare. Con la Reggiana è l'unica sconfitta che ci sta. Gli altri, compresi anche i mezzi passi falsi se vuoi contro la Pistoiese e contro la Fermana sono incidenti di percorso che possono esserci all'interno di un campionato. Per esempio il Pescara ha pareggiato tante partite in casa al 95esimo e anche con il Teramo proprio sabato scorso. Il Modena al di là di questo espluato incredibile di aver fatto queste sette vittorie consecutive, anzi sei mi sembra, aveva perso anche delle partite sorprendentemente. Soprattutto all'inizio. Quindi l'unica squadra che non ha pagato Dazio è la Reggiana e il Cesena. Poi le altre sono tutte in linea al campionato che sta facendo il Siena con tutte le premesse che abbiamo sempre fatto. Siamo una squadra che è stata riflessata a due anime, l'anima di Serie D e l'anima dei professionisti, cioè di quelli che sono arrivati forti dopo. È partita un allenatore che era stato confermato per la D, ne è stato chiamato un altro. Nonostante questo e nonostante tutto il Siena ha una buona classifica e quello che mi piace sottolineare è che comunque secondo me è una squadra che ha più margini di miglioramento. Per un semplice motivo, che secondo me il Siena ha dei giocatori che gioco forza dovranno crescere e sono soprattutto i giovani. Mi riferisco a Pezzella che secondo me è un giocatore che è sicuramente in forte crescita e lo sarà sempre più, ma anche Cardoselli che è un classe 98, che è un centrocampista che è dotato di inserimento e grande fisico, è un giocatore che sicuramente andrà a migliorare. Quindi diciamo che i miglioramenti della nostra squadra dipenderanno dai miglioramenti che questi ragazzi riusciranno a fare. Modena e Reggiana sono due squadre fatte. Sì, sono due squadre costruite, da tempo hanno avuto il modo di organizzarsi. E stanno esprimendo il massimo probabilmente di quello che sono, anche se il Modena lamenta tante assenze e quindi in prospettiva anche il Modena è una squadra veramente molto interessante. Può ancora migliorare. Può ancora migliorare. Ma il Siena è una squadra che dal mio punto di vista ha dei margini esponenziali di miglioramento, sia sul piano del gioco sia sul piano della crescita personale dei giocatori. Sì, sono d'accordo. E poi fra l'altro è quello che ci siamo detti anche stamani quando ci siamo trovati per caso in città. E quindi sono sensazioni che tutte le persone hanno anche in città. Quando ci si ferma molto spesso tutti dicono più o meno il Siena merita questa classifica da margini di miglioramento. Su tutti, tu dicevi Pezzella, ma anche lo stesso Carson era partito in una maniera totalmente diversa rispetto a come sta andando ora. Carson secondo me è un giocatore che fa dei movimenti giusti, da prima punta. Io un particolare nella trasferta di Viterbo che abbiamo perso mi sono messo a vedere il riscaldamento dei giocatori. Te eri a Viterbo? Ero a Viterbo. A me piace vedere anche questi particolari. E quando facevano i tiri in porta ho notato che Carson calcia molto bene. Sicuramente questo non è tutto per un giocatore, no? Però uno che fa i movimenti. Calcia me ne importa. Probabilmente, insomma, è uno che gioco forse fisicamente di testa le prende. Se riesce a giocare con la squadra e per la squadra senz'altro può migliorare. Chiaramente questo viene fuori da una scuola calcistica particolare, l'Islanda. Anche se in Islanda in passato ci sono stati giocatori che hanno militato nel Barcellona, nel Tottenham. Non è che sono il terzo mondo del calcio. Niente a Guyonze, né Sigurdsson. Esatto, esatto. Però, e anche a partecipare agli europei. Chiaramente è un giocatore che deve adattarsi a delle latitudini calcistiche tutte nuove. Certo, non è stato preso per essere il crack della squadra, però se lui entra, ci mette fisico, ci mette corsa, ci mette la volontà di apprendere nella coralità del gioco. Quello che una punta deve fare, perché poi guarda, nel calcio, insomma, hai giocato anche a pallone, le prime punte, se già si sanno muovere con la squadra e per la squadra, non è poco. No, assolutamente, perché fai funzionare un intero sistema. Soprattutto se hai due punte esterne che sono teoricamente molto più forti di te, e se hai dei centrocampisti di inserimento e divisione e palleggio, ecco, come in parte al Siena, ecco, perché poi magari dopo parliamo anche del centrocampo. Esatto, infatti dopo, adesso dobbiamo dare la pubblicità, volevo parlare un pochino più nel dettaglio della formazione del Siena, come facciamo ormai sempre, è una consuetudine. Vorrei parlare anche un pochino più nel dettaglio dell'avversario del Siena, la Lucchese, tutto questo però dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta amici telespettatori, con Luciano ci eravamo lasciati parlando un pochino della situazione in attacco e ora volevamo parlare un pochino più nel dettaglio, come sempre la nostra top 11 probabile della giornata, dovevamo parlare del centrocampo, la difesa, insomma ci sono parecchi nodi da slegare, il portiere ovviamente Lanni, partendo dalla difesa, che difesa ti aspetti? Sempre una difesa a quattro? Sì, una difesa a quattro assolutamente e comunque sia a me non dispiace Marcellusi. Marcellusi che nell'ultime giornate sta facendo vedere veramente delle ottime cose. Ad esempio a Gubbio partì titolare, non fece male perché è un giocatore che ha delle iniziative e soprattutto dalla fascia si prende anche un po' la corsia centrale del campo per andare a occupare degli spazi. Tempo fa noi parlavamo del fatto che nel calcio moderno esistono delle nuove concezioni, che sono quelle lì di occupare gli spazi, più di come schierarsi, cioè il giocatore deve essere fluido. Sì esatto, c'è un modulo di base che poi varia. Esatto, deve essere interpretato. Marcellusi è un giocatore che secondo me ha più iniziativa di Mora e Mora che c'entra, anche lui ha nelle sue corde la spinta, però lo vedo più un cursore di fascia puro. Mentre Marcellusi è giocatore di iniziativa, magari meno incline nella fase difensiva, però non mi dispiacerebbe vederlo in campo. Poi per il resto la difesa io la vedrei sempre la solita con Favalli a sinistra, terzi sicuramente in campo. C'è un dubbio fra Milesi e Conson. Poi c'è Conson, Terigi anche. Terigi. Diciamo che il centrale sarà sicuramente terzi, poi qui ampia scelta. Io credo sinceramente, vedo in questo momento Terigi è quello più in forma, perché Milesi comunque è tornato dalla rottura dello zigomo contro il Modena, ha la mascherina, non so magari quanto può influire. Quindi azzardiamo un... Vedo più possibili io Terigi e Conson. Allora, nella nostra probabile formazione Pietro possiamo dire in Portalanni, a sinistra Favalli, a destra cosa mettiamo? Mora. Io dico Mora. Mora, titolare e quindi terzi... Terzi e poi uno fra Conson e Terigi, vedo favorito. Sì, e Conson in trasferta, tanto per parlare, l'ultima trasferta a Maddaloni non andò malissimo. Anche se entrò, diciamo, in condizioni... Però diciamo Terzi e Terigi è la coppiata che ha giocato più frequentemente. Per quanto riguarda il centrocampo, io direi che c'è tanta scelta. A me sembra che uno fuori dai giochi non sia a quadro. Cioè a quadro alla fine è uno che tra la titolarità e il subentrare comunque c'è sempre. Sì, è sempre, assolutamente. Quindi probabilmente potrebbe partire dall'inizio anche a quadro. Non so se schierato come metodista davanti alla difesa o come mezzala. E in ambe due casi ha giocato. Io ti dico che è un giocatore sorprendente, che da sostanza al reparto, che piace agli allenatori. Io, secondo me, potrebbe partire. Insieme a Pezzella e l'altro potrebbe essere il solito Bianchi. Sì, sono d'accordo. Anche io, Bianchi, dico perché fuori casa la giocate quasi tutte. Sì, perché ha esperienza. Rispetto a Cardoselli che ha giocato più spesso in casa da titolare. Sì, perché Bianchi è un giocatore che ha esperienza, da sostanza e comunque sia, non me ne vorrà, non pare avere i 90 minuti nelle gambe. Quindi magari ha poco senso buttarlo dentro un giocatore così per avere un impatto sulla gara. Ha più senso, essendo di esperienza, farlo partire dall'inizio e poi magari quando non è a più andare a sostituirlo. Quindi Bianchi in campo, Pezzella e non so se a quadro è visto come un'alternativa a Bianchi oppure una mezzala. E poi c'è da considerare magari anche l'ipotesi Guberti-mezzala. Sì, però ci può stare. Perché l'ha già fatto. Perché no. Io Guberti lo vedo più a partita in corso. Guberti è un giocatore che comunque da mezzala ti dà la possibilità, come spiegò lui, di andare a portare un pressing alto e una volta che si trova nel presidale, nella tre quarti avversaria, comunque ha anche quella qualità che può essere utile. Anche Guberti, secondo me, sulla soglia dei 40 anni, quanti anni ha lui. Esatto, lui ha 37 anni. L'unica cosa che gli imputò è quello di, si dovrebbe mettere a giocare un po' più a due tocchi. Ad esempio, nell'azione del gioco del gol di Carlson, lui di prima dà una palla bellissima in favore di Favalli che arrivava in corsa, però Guberti come caratteristica uno è portapalla, uno vuole scartare l'uomo e quindi per lui è dispendioso. Se a centrocampo lui riuscisse a dire, bene, metto a disposizione la mia cifra tecnica, la mia classe, la mia qualità per la squadra, che non si discute, gioco un po' più da fermo, però sono processi che devono fare per primi giocatori. Se riuscisse a farlo non sarebbe male in quel ruolo. Sono d'accordo anche su una cosa che avevi detto un po' di tempo fa, che se dovessero giocare pezzella e a quadro insieme, io vedrei meglio un a quadro mediano e un pezzella mezzala. Sì, anche perché pezzella è un altro giocatore fluido, nel senso che è di quelli che riesce a occupare di spazi e soprattutto palla al piede, lui si prende quelle corsie centrali che servono. Ad esempio abbiamo visto il gol dell'Olbia, quello del 2-2, il giocatore Federico si è preso la corsia centrale, però ci sono tanti casi che l'amorosi, per esempio uno che, per farti un esempio, si prende lo spazio è Chiellini, Chiellini in una difesa a tre, quante volte l'abbiamo visto prendere la palla e fare un coast to coast, no? Sì, sì, sì. E questi sono i giocatori che fanno la differenza oggi nel calcio, cioè quelli che invece di muovere la palla velocemente riescono a prendersi gli spazi e pezzella è uno di quelli che riesce con la palla, correndo benissimo, a prendersi degli spazi e lui è bravissimo in questo, capito? Sì, sì. Cioè più che giocare due tocchi, più che avere visione, al di là del fatto che ha anche un buonissimo piede, l'abbiamo visto, cioè lui corre benissimo col pallone e si va a prendere degli spazi che servono per le percussioni, che servono per le iniziative personali, per creare quei momenti della gara che poi devono determinare le superiorità numeriche, le palle dentro, le palle golle, eccetera, eccetera, e tutto quello e serve per andare a segnare un gol, ecco. Sicuramente, sicuramente. Dunque, appurato il centrocampo, adesso passiamo anche all'attacco. Cioè, allora, io dico, gli esterni saranno come sempre Di Santo e Caccavallo. Ho un dubbio sulla prima punta, magari sarà riconfermato Varela a falso nove? Caccavallo, da quello che si sa, è in un momento di grande forma, perché è anche in allenamento, sta andando bene e comunque l'ultima gara interna è stato veramente uno che ha dato dimostrazione di essere molto dotato tecnicamente, ma anche come, al di là dell'autonomia, come Corsa. È giocatore utile sui calci piazzati, è comunque uno di iniziativa, perché partendo dalla fascia a visione di gioco, l'altra volta ha fatto pure gol. Di Santo non si può discutere. Quindi, teoricamente, io ti dico, il tridente potrebbe essere quello con l'Olbia e poi, ob torto collo, il Varela andrà a posizionarsi come... io poi la smetterei anche di di falso nove, cioè andrà lì a fare la prima punta. Poi, se il mister volesse riposizionarsi sulla modalità Carlson, schierando dal primo minuto come a Gubbio, e a quel punto, magari, non lo so, vedo... però in quel caso, ti ricordi, Varela non giocò. No. Perché stette male. Stette male, aveva problemi calcoli renali. Esatto, esatto, quindi quella lì fu una forza, una mossa un po' forzata. Sì, esatto, quella assolutamente. E... boh, allora, secondo me partono quelli di Olbia, ecco, i tre davanti, ecco. Quelli con l'Olbia, insomma. Sì, sono d'accordo. Mentre, parlando un attimo della Lucchese, abbiamo visto in classifica la Lucchese a 18 punti, il Sena a 23. Quindi, è importantissimo vincere perché tre punti in più sulla Lucchese sarebbero, insomma, un grande distacco, perché guarda, la classifica non è lunga, è molto corta. No, la Lucchese, come abbiamo detto nelle statistiche, ti fa capire che squadra è. Ha 18 punti, però è una squadra che se le gioca tutte le partite. Ricordiamo che la Lucchese è una squadra ripescata anch'essa, è un organico messo in piedi al volo per la Serie C, però stanno trovando un buon passo gara, è una squadra che non rinuncia a giocare, ha perso sei volte, se non sbaglio, però poi, questo probabilmente perché? Perché le gare se le gioca, cioè nel campionato, nell'ottica dei tre punti, non è sbagliato andare a giocare per vincere, perché comunque, insomma, la posta, cioè, il Modena lo dimostra. Certo. Ma se il pittore era il penultimo, è arrivato a essere, come vuol dire, il secondo in classifica. Però, per chi ha seguito la nostra trasmissione di Stefano Osti, disse una cosa molto giusta. Probabilmente si disdegna nel campionato dei tre punti il valore del pareggio. Voglio dire, se noi avessimo pareggiato a Livorno due anni fa, probabilmente, cioè, no, probabilmente, eravamo in Serie B diretti, no? E invece quella partita la perdemmo, 1-0. Ma, allora, voglio dire, nell'ambito di un campionato, il valore di prendersi un punto è tantissimo. E la Lucchese pare essere una squadra che se la gioca a manetta, quindi... Che poi è la mentalità del suo allenatore, di fatto. Sì, 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 ma a me non dispiace, perché come dissi in un'altra occasione, io il Siena vado sempre a vederlo con l'ottica della squadra che vincerà sempre, ma questo anche quando eravamo in Serie A. Io tutte le volte entravo allo stadio, dicevo, oggi il Siena vince, anche contro il Milan o la Juve. Abbiamo tutte le volte, almeno i miei ricordi, anche se ero bambino, insomma, in Serie A erano che il Siena metteva in difficoltà forse di più le squadre che erano in cima rispetto a... Ma questo perché, per banalmente dire cosa, Pietro, qual è la squadra che non va in campo pensando a vincere? Nessuno. Cioè, tutti vanno in campo per vincere. Poi è chiaro che c'è la bravura dell'avversario, c'è tutta una serie di fattori, gli episodi che contano tantissimo. Chiaro che noi andiamo a incontrare una squadra che ha questa mentalità, che comunque gioca in casa e che comunque sia a voglia di dimostrare che sta facendo, secondo me, un buon campionato, perché la Lucchese è una squadra che va affrontata e va battuta. Esatto, assolutamente. E quindi non è... Cioè, che sembra una cosa banale, ma non è poi così. Poi c'è anche la tradizione, perché contro la Lucchese, insomma, al Porta Elisa ci sono sempre stati dei derby molto infuocati, specialmente all'inizio degli anni Ottanta, mi ricordo quando ero ragazzetto, insomma, le partite contro la Lucchese invece erano molto sentite, sì, sì, molto sentite, molto sentite e ci sono stati anche delle partite anche spettacolari, insomma, fra tutti mi ricordo un gol di Stringara su punizione che entrò dalla panchina solo per calciare quella punizione, era tipo il novantottesimo e l'ha infilato all'incrocio. Era tipo Fusini forse nella Lucchese? Ora, questo non ricordo, però poi insomma mi ricordo anche l'anno della promozione di Sala, una bella trasferta a Lucca, un grande seguito, poi ci furono... Con la Lucchese ho sempre stato delle partite molto importanti, sentite anche da ambo le parti, poi chiaramente la storia delle due squadre è stata profondamente diversa, posto poi che la Lucchese prima di noi ha avuto un percorso in Serie B importante negli anni Novanta, ecco. Certo, certo, Lucchese che come il Siena è una squadra che si è costruita proprio all'ultimo, da tenere d'occhio i due attaccanti Semprini e Fedato. Soprattutto quest'ultimo. Esatto, soprattutto Fedato che è molto pericoloso e insomma la difesa del Siena è una difesa solida ma nell'uno contro uno delle volte è andata in difficoltà, soprattutto quando si parla di progressione in velocità. Sì, sicuramente, certamente loro vorranno affidarsi alle loro armi e come è detto la squadra che non sarà sparagnina, io mi aspetto e cercherà di... e questo però da una parte a me non dispiace, cioè se andiamo a affrontare una squadra che vuole fare la gara, tanto meglio. Per quanto riguarda la difficoltà che noi abbiamo nel difendere, sì, è chiaro che gli altri ci studiano e studiano anche le caratteristiche dei nostri difensori. Quindi la partita ormai è preparata scientificamente, vorrei dire, da tutti e anche a questo livello i nostri difensori magari possono essere colti là dove hanno le loro difficoltà. Quindi, attenzione e attenzione, questa è una squadra che gioca con due punti, un trequartista, normalmente si schierano così, poi staremo a vedere. Ecco, come è detto, una squadra che non disdegna l'attacco, una squadra che vuole fare la gara, quindi io mi aspetto una partita aperta e con la possibilità chiaramente di andare là e fare il risultato. Non dico quale, anche per Scaramanzia, ma insomma sicuramente il risultato è... Infatti i conostici non li vuoi mai fare. Sì, sì, sul Siena poi... Non scherziamo davvero, dici. Bene, volevo andare a vedere un attimino il prossimo turno per chiudere questo secondo blocco, poi vorrei parlare di un'altra cosa anche nel terzo blocco della nostra puntata di anteprima. Intanto vediamo un attimo qual è il turno della quindicesima giornata. Abbiamo Teramo e Olbia, Ancona, Matelica e Modena, Vispesaro-Carrarese, Viter-Bese-Gubbio, Cesena-Fermana, Grosseto-Montevarchi, altra bella partita, Imolese-Reggiana, Lucchese-Siena, Pistoiette-Virtus-Entella e Pontedera-Pescara. Allora, l'Ancona-Matelica con il Modena ha la possibilità di ritornare sotto se vogliamo, anche se il Modena è in uno stato di forma veramente eccezionale. Dunque, quali sono le partite secondo te più interessanti? Allora, l'Ancona-Matelica-Modena, sì, forse è la partita che guarderei con più interesse, anche perché il Modena, voglio dire, sembra irrefrenabile. Però l'Ancona-Matelica è una delle nostre prossime avversarie, è una squadra interessante, che sta facendo un campionato incredibile. Poi mi incuriosisce una partita così, che ti sembra che dica poco, è che è Imolese-Reggiana, perché l'Imolese è una squadra strana. La Reggiana, sinceramente, non si capisce ora se si sta sedendo, se sta avendo un passaggio a vuoto, se sta, dopo aver capito che può fare il vuoto, che ora questo non lo fa più, perché gli si sono appiccicate dietro sia il Modena che il Cesena, si inizia a avere un po' di ansia alla prestazione. E quindi magari è in quella fase dove inizia un po' a guardarsi le spalle e già, anche se il campionato è molto presto, inizia a capire che sarà in buona compagnia. Quindi Imolese-Reggiana è un'altra partita che vorrei vedere un po' per capire più lo stato d'animo della Reggiana che altro. E poi le altre, non so, tutte sono... Bisognerà vedere il Pescara, anche il Pescara, insomma, la squadra è un po' enigmatica. Cosa farà sul campo sintetico del Ponte d'Era, che in casa comunque è sempre pericolosa. Ha un turno interlocutorio dove sicuramente la partita più interessante è quella dell'Ancona Materica contro il Modena. Poi, chiaro, le altre sono tutte gare un po' particolari da capire come saranno affrontate. Ad esempio, sarei molto sorpreso se la Fermana facesse il risultato nel Cesena. Ma questo, Pietro, non è detto che non avvenga. Quindi è tutto sempre molto aperto, secondo me. Sì, sono d'accordo. Bene, allora abbiamo chiuso con il secondo blocco della nostra puntata. Come detto anche ieri, in trasmissione con Luca Milesi, ieri è stato un giorno importante per la Robursiena, perché era il suo anniversario, 117 anni di storia. E dopo, nel terzo blocco, proprio di questo vorrei parlare. Un insieme di ricordi, di emozioni, di tifosi come te, Luciano, e come molti altri nella nostra città. Tutto questo dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, amici telespettatori, e come preannunciato con Luciano vorrei parlare un pochino dell'anniversario della Robursiena, 117 anni di storia. Hai messo anche un post sui tuoi profili social con Enrico Chiesa, una squadra veramente straordinaria. In questi 117 anni, qual è stato il ricordo più bello e l'emozione più forte? Mi dà il privilegio di parlare di questa cosa e quindi io posso dirti che io mi ritengo insieme anche a molti altri, per la verità, uno di quelli che ha avuto il Siena come compagna di vita, possiamo dire. Certo, certo. Io credo che per tanti in questa città il Siena sia stato veramente un qualcosa che ha caratterizzato la nostra crescita da bambini, ragazzi, uomini. E quindi è una crescita che ha vissuto varie fasi. Personalmente io ho visto il Siena da quando era in Serie C, in C2, costantemente, e poi l'ho vista in questi anni gloriosi della Serie A dove tutto sembrava essere un sogno e sinceramente se ci penso a quegli anni mi sembra quasi di ripensare a qualcosa di impossibile. Però in tutte queste vicissitudini, quelle più amare degli ultimi anni, ho imparato personalmente ad apprezzare anche il Siena ad esempio della prima promozione che stiamo vedendo le immagini dalla scia alla B. Ho imparato a ricordare tutti i beniamini e tutti i calciatori che hanno indossato la maglia del Siena che è sempre stata una maglia gloriosa perché la Robur ha avuto sempre il merito di stare nel calcio che conta soprattutto nel momento storico. Ad esempio, io prima ti ho citato la lucchese, no? Sì. In quegli anni lì il Siena era a fare derby con le squadre che in quel momento storico rappresentavano tanto Prato, Lucca, Grosseto negli anni Ottanta. Cioè queste erano partite veramente molto sentite e importanti. Il Siena c'era. Il Siena c'era e faceva bene. Poi ha avuto il momento storico di riuscire a fare questa cosa incredibile e andare in Serie B e ha vissuto tutti gli anni che hanno anche determinato i cambiamenti del calcio. Io citavi, ho parlato della prima squadra di Serie A perché noi ci salvammo nel campionato a 18 squadre con 4 retrocessioni. L'anno dopo cambiò il calcio. Campionato a 20 squadre con 3 retrocessioni. Quindi il Siena ha vissuto un po' dei momenti dove chiaramente questi momenti hanno poi anche accompagnato non solo la nostra vita ma anche hanno fotografato quello che succedeva in città nel senso che poi la storia del Siena si è incrociata anche con la storia della città e quindi chiaramente con tutto quello che ne consegue però qui ci vorrebbero capitoli e capitoli non ho voglia di affrontare questo momento. Qual è stata la partita più bella che hai visto della Roma? Ma questa è una bella domanda. Io ora se dovessi fotografare una partita banalmente ti direi Siena-Pisa con il gol di Boria però sì quella però ci sono tanti momenti mi ricordo il 3-0 del Siena contro la Lazio in casa il primo anno in Serie A oppure anche la prima vittoria oppure il gol salvezza di Argilli sempre in Serie A oppure quando a Genova scalzo segnò di mano potrei dirti un gol al volo di Foglietti con la Palmese che fu un'azione di prima incredibile e Foglietti proprio in quella porta lì calciò al volo e l'anfilò al 7 però insomma non lo so gol di Fermanelli Io ho in mente un grande ricordo e anche molto bello del pareggio del Siena contro la Juventus nel 2010 che pareggiarono 3-3 lì poi ero anche un pochino più grande quindi mi ricordo molto bene Comunque il Siena ha avuto una storia incredibile soprattutto quello che possiamo dire è che i giocatori che hanno indossato la maglia da Robur l'hanno sempre indossata con grande orgoglio e grande appartenenza perché poi alla fine Siena è una città che avendo il culto della memoria e quello si sa perché non c'è nemmeno bisogno esatto e i giocatori non sono dimenticati probabilmente i giocatori quelli intelligenti che hanno saputo intercettare l'essenza di Siena hanno indossato la maglia con grande appartenenza come tutti noi ci pregiamo di avere attraverso le nostre contrade e sapendo di generare poi un ricordo perché Siena è una città che fa della memoria un culto poi veramente ci sono ricordi positivi e negativi come in tutte le cose qualche giocatore si è anche battezzato nelle varie contrade sì certo tanti si sono sposati a Siena hanno fatto figli quindi quello che mi fa piacere è che comunque sia nonostante tutto Siena è una città che non ti lascia indifferente e chi ha indossato la maglia da Robur parlo dei giocatori l'ha sempre fatto con grande orgoglio questo io lo devo dire questo mi sento di affermarlo in virtù del fatto che io come ti ho detto ci sono cresciuto e invecchiato appresso al Siena ecco certo il giocatore che ti ha più emozionato invece? ma a me mi dà un onore stasera vada veramente vabbè vuoi che parli dei miei idoli? parla dei tuoi idoli vabbè io ero affascinato tantissimo a Guglielmo Coppola da piccino e poi vabbè Santino Nuccio però poi per passare a Fermanelli poi siamo andati vabbè un giocatore secondo me che se fosse rimasto a Siena sarebbe stato secondo me idolo in contrastato sarebbe stato Pinga Pinga esatto secondo me Pinga era il classico giocatore che faceva bene nell'unica piazza calcistica cioè ha fatto solo bene a Siena sì esatto e se fosse stato confermato in Serie A avrebbe fatto benissimo anche in Serie A quindi io Pinga l'ho amato tantissimo poi c'è quel problema dell'incidente esatto e poi vabbè giocatori emblematici come Michele Mignani che poi ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e posso senz'altro affermare che sia un mio grande amico e spero viceversa e poi anche Luca Cavallo secondo me è stato un giocatore molto rappresentativo ma molti altri ecco l'elenco sarebbe lungo vorrei dirti cioè Vergassola persona seria e giocatore commovente ce ne sarebbero tanti ecco sinceramente mi scuseranno quelli che sono rimasti fuori però ecco veramente trovo l'elenco infinito poterti dire anche Torre Andre Flo giocatore che prima di arrivare a Siena aveva più di cento presidenti nel Chelsea aveva vinto le coppe europee ma anche Vergassola stesso come ti ho detto era stato prima di venire a Siena capitano della Sampdoria e del Torino insomma tanti tanti giocatori veramente ecco veramente un'infinità esatto anch'io posso permettermi di citare qualche nome che mi ha accompagnato nella gioventù io non ho vissuto gli anni della serie B gli anni della serie C quelli più vecchi ho vissuto gli anni della serie A sono cresci e te sei un millennial sono nato che il Siena era in serie A e devo dire che Enrico Chiesa e poi quello che mi ha aperto più di tutti il cuore è stato sicuramente Emanuele Calaiò che ringrazio pubblicamente anche per avermi firmato la maglia per averlo conosciuto questa sta diventando una puntata autocelebrativa è una puntata certo celebrativa perché comunque autocelebrativa perché il Siena ma raccontando le nostre esperienze raccontiamo come il legame è forte esatto esatto e insomma queste cose penso che possono confermarle anche tante persone che ci stanno guardando e che magari sono tifosi del Siena o magari anche qualcuno che non tifa Siena ma in qualche modo ha visto il Siena è cresciuto con il Siena anche se non tifava e non guardava le partite non so se sei d'accordo sì ma guarda poi anche vedere cosa ha rappresentato quest'anno per la città e la Robur il fatto che il Siena sia stato ripescato e comunque sia stia facendo un campionato di vertice in Serie C è visto come un fattore positivo anche chi non segue il Siena e chi non segue il calcio magari molti snobbano il calcio banalmente pensando che sia qualcosa che sia quasi volgare ecco perché poi va anche detto che ci sono stati degli anni specialmente quando ero molto giovane dove il Siena era visto come un qualcosa quasi di volgare cioè chi seguiva il Siena era quasi una specie di cittadino di Serie B ma guarda mi sto scherzando perché c'era uno sport molto più elittario non me ne vorranno però il costume dell'epoca chiamiamola l'epoca voleva questo quindi diciamo che il calcio pur essendo da molti diciamo filosofi anche snobbato in realtà è qualcosa di molto importante nella terra grandi scrittori poeti filosofi hanno avuto le più grandi ispirazioni attraverso il calcio che sono sempre più convinti sia metafora di vita per troppi motivi e quindi credo che alla fine poi sia lo sport più popolare perché banalmente è quello che viene giocato da tutti e anche dai miserabili ma anche da quelli più ricchi tra quelli più potenti cioè è un qualcosa che mette al solito livello tutto bravo sono d'accordo e quindi questo succede anche a Siena secondo me senza altro perché sempre di calcio si parla bene Luciano io direi che per stasera è veramente tutto dopo aver fatto questa bellissima quanto doverosa parentesi per fare anche gli auguri a questa società a questa squadra che compie 117 anni una storia veramente infinita e chissà quante cose ci siamo dimenticati sicuramente io ti ringrazio come sempre ma io ti ringrazio te anzi ma hai dato anche un onore bellissimo quello di parlare del compleanno del Siena e che senz'altro fa parte delle nostre vite ma veramente in maniera piena assolutamente assolutamente ritornando al presente ovviamente Studio Robur dà appuntamento a domenica per il post partita di Lucchese Siena ovviamente ci auguriamo tutti una vittoria tre punti possibilmente e quindi diamo appuntamento allora a domenica come sempre Forza Siena e poi ovviamente il lunedì c'è come sempre il salotto di Studio Robur di Luca Virgili e Luciano Sardone e Luca Virgili che salutiamo e direi allora di fare un grande in bocca al lupo alla squadra e diamo appuntamento a domenica per oggi è tutto buona serata a tutti e buona sera grazie buona sera a domenica a domenica a domenica a domenica